Come installare un impianto fotovoltaico oppure come realizzare un cappotto alla propria casa. Lo sportello energetico attivo a Cremona ogni martedì consentirà ai cittadini di porre quesiti sulle installazioni da fare nelle proprie abitazioni e sulle questioni ambientali della propria città. Diversi gli attori coinvolti dal comune ad A2A, dai rappresentanti degli ordini professionali, dagli ingegneri agli architetti, dai periti industriali al lance che ogni volta risponderanno ai quesiti dei cittadini. Cambiamento energetico che significa rispetto per l'ambiente, in una delle città spesso ai vertici delle classifiche legate all'inquinamento. In questa partita si inserisce la questione dell'inceneritore e a cascata del nuovo impianto di biometano che tanto sta facendo discutere. In questa partita si inserisce inevitabilmente la questione dell'inceneritore e a cascata anche quella del biometano che comunque sta facendo discutere. Certo, ma il far discutere va bene perché bisogna ragionare sulle cose e capirli insieme. L'ultima affermazione uscita di Lega Ambiente proprio di qualche giorno fa, provate ad andare a recuperarla, è non solo che il biometano è una delle fonti di energia rinnovabile migliori, sostenibile migliore, ma che bisogna anche accelerare, dice Lega Ambiente proprio qualche giorno fa, bisogna anche accelerare sui permessi perché il nostro Paese ne ha bisogno, perché questa operazione è un'operazione che aiuta l'aria, perché toglie reflui dai campi, quindi aiuta l'aria, costruisce da fertilizzanti che aiutano i campi, anche questo è molto importante, e produce energia che è energia pulita. Quindi quando un'energia è pulita e fa bene all'ambiente bisogna produrla perché altrimenti la prossima crisi energetica dopo giustamente ci lamenteremo. Non dobbiamo lamentarci se anticipiamo e produciamo dentro la nostra energia. E questo vale anche per il termotilizzatore. La grande partita della tariffa puntuale, della raccolta differenziata, in questi anni la raccolta differenziata è passata dal 53% e ci avviciniamo all'80%. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire ambiente più pulito, perché vuol dire che la plastica invece di produrla la ricicliamo, perché vuol dire che questo vale anche per la carta e per gli altri materiali più differenziali. E il Bona sta facendo questo e quindi vuol dire diminuire anche la quantità di rifiuti che noi portiamo nell'inceneritore, che va verso il fine vita, come sappiamo, nel 2029. Ma vuol dire anche che cosa? E in Crabona 2030 c'è sostituire le fonti del teleriscaldamento. Il teleriscaldamento è importante. Allora la prospettiva è quella di una transizione elettrica, cioè fonti di riscaldamento elettrica, ma il teleriscaldamento però non brucia e non bruciando, non inquina l'ambiente. Va sostenuto. Allora, in Crabona 2030 ci sono anche le fonti di sostentamento del teleriscaldamento, per esempio c'è il recupero del calore dal depuratore. Ma leggiamo anche l'impianto di biometano in futuro come la possibilità di un sostegno anche al teleriscaldamento. È davvero una logica complessiva in cui la città si sta muovendo per produrre più energia pulita, per consumare meno energia, per usare meglio i materiali e serve a tutti noi, serve un buon comportamento che tutti noi dobbiamo avere, ma alla fine davvero, e i risultati si vedono, significa aria più pulita, ambiente più pulito e anche risparmio, risparmio economico per ognuno di noi.